Io guardi, dobbiamo essere assolutamente convinti che la stabilità di qualsiasi sistema è essenziale per andare avanti. Se continuiamo a cambiare governo ogni 6 mesi, ogni 12 mesi, ovviamente non è un segno molto incoraggiante per gli investitori nella nostra struttura, sia del debito pubblico che per quanto riguarda l'industria. Senza esprimere giudizi politici che a me non interessano per niente, perché è importante dare quei segni di stabilità internazionalmente che ci hanno portato a questo punto. Se andiamo a indebolirci a quel livello l'andremo a indebolire il Paese.